Salve e buongiorno ai cittadini di Meta, presentiamo il nuovo sistema di ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata. Da oggi tutti possono venire in qualsiasi giorno della settimana e utilizzare l'istitutore automatico. In che modo? Come ci illustra il nostro operatore Raffaele Sorrentino dell'Econove, basta avvicinare il codice fiscale o della tessera sanitaria o della carta di identità alla macchina sul display selezionare il prodotto di cui si ha bisogno e infatti nella lista dei prodotti ogni numero indica una tipologia di busta indifferenziato, organico, carta e multimateriale. Io seleziono ad esempio uno indifferenziato e la macchina mi consegna il kit della raccolta materiale indifferenziato. In questo modo io posso ritirare nei sei mesi il kit che prima veniva consegnato manualmente.